Che cosa devo fare? Tu pensi a Igli? A lui sì. È caduto così in basso, sembra che gli goda della sua miseria. Eppure, è lui il mio destino. Diversi come siamo, Igli e Dio abbiamo lo stesso cuore. Invece fra me e Linton c'è un abisso. Io vivo soltanto per Igli. Ellen! Io sono Igli. Oh Ellen, che cosa posso fare? Pensa forse a Igli. E a chi altri? È caduto così in basso, però sembra che si diverta a mostrarsi villano e vulgare. Eppure, egli fa parte di me stessa. Non so di chi siano fatte le nostre anime, ma sono della stessa essenza. E Linton è diverso invece come il ghiaccio dal fuoco. L'unico pensiero della mia vita è Igli. Ellen! Io sono Igli. E circa! E questo è Gadlino. E? 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 E?